Se hai bisogno di soldi, una giunta dell'axo o completi modati non esitare a contattarmi Iscriviti a tutti i miei gruppi telegram, nextgen e allgen ragazzi Iscrivetevi a tutti i miei social e se siete da PS in descrizione trovate i gruppi anche per playstation E adesso al nuovo video Benvenuti raga, qua è Savix che vi parla Allora ragazzi oggi vi porto un glitch simpatico per poverelli Per chi ha blocco vendite, per chi gioca da solo, per chi non può far caio, per chi è un po' incasinato Allora requisito serve solo l'auto officina ragazzi Almeno un tizio che ci consegna le auto e un'auto appunto da maxare Allora il mio consiglio per fare questo glitch è maxare l'auto con le modifiche che ci da da fare di base E andiamo ad aggiungere qualcosina Ma non troppo ragazzi perché sennò poi non ci darà la macchina da consegnare Quindi a questo punto una volta che abbiamo maxato e aggiunto qualcosina al veicolo ragazzi E siamo in questa schermata Dobbiamo fare una sorta di trick Quindi noi schiaccieremo A se siamo l'Xbox o X se siete da PS su consegna il veicolo E subito dopo ragazzi teniamo schiacciata la freccia su e spammiamo A se siete da Xbox o X se siete da Play Il risultato ragazzi sarà questo Che apparentemente noi consegniamo il veicolo manualmente senza nessun problema Ma se guardate in alto a sinistra comparirà questo messaggio ragazzi Che ci dirà che l'auto verrà consegnata dal tizio Quindi consegneremo l'auto due volte Quindi adesso io andrò al punto giallo ragazzi Consegnerò l'auto Mi darà la cifra che mi deve dare E poi una volta che ho consegnato Dopo circa 8 minuti Ma arriverà anche il messaggio da 60 Che mi dice che l'auto è stata consegnata dal tizio Quindi ragazzi ci pagherà due volte Un glitch facilissimo Super facile Veloce Ci permette di fare 200.000 150.000 Ogni 2-3 minuti ragazzi E' veramente comodo Per chi non ha requisiti per fare soldi Io spero che i miei video vi piacciono Lasciate un like Lasciate un commento Supportate Xavix E sbada bam Al prossimo video Grazie a tutti 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 Grazie a tutti